Preparatevi per bene Presto entrerete in azione Nemico in discesa nell'area operativa Fine del riscaldamento Si aprono le danze Vabbè ma che te frega tanto è... Comunque V50 ancora in vita Ah ma non ci sono le missioni Ecco È un po' più lungo per capire come funziona ancora Cos'è tutto quel Juggernaut? Andiamo a prendere il Juggernaut qui? Andiamo 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 Mi vado a sinistra Mi vado a sinistra Al verde Come davvero abbiamo detto Andiamo a military No Eh ma non ci arrivano Ah ma perché hanno già fatto delle armi comunque No c'è gente qua c'è gente Vado di qua Ah cazzo ci fregano Si fregano la 40 Juggernaut Nivello 4 No 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 Ah ma quando mori c'è zombie Oddio Ma che gioco del mio, che schifo Non lo so che armi abbiamo No, secondo me no Ah c'è un tropico Ah ma rinasci all'infinito, cazzo C'è una domanda Ah no, ma che carino Ho perso il trofi, venti trofi Il trofi è attivato Ah ma perchè viaggiano zonde Porco dio Oh ma che cazzo Ma che cazzo ne so Ma l'elicottero non ne so Comunque abbiamo solo dei fucili a cannoniscia Ah ci sono dei fucili Ah io c'ho una mitragliatrice Ah bene Ah no, questo è un altro po' C'è la canna liscia quella Stà bene di fuori No 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 Ma niente La volevo prendere io Eh la motodrapper ho trovato Bella Questo è il punto di raduno Che ricordi Per averla Mi do io Se porca Operatore ostile Ah si adesso vado a uccidere Dove dentro? Mi do il verde C'è il verde C'è il verde Qualcuno vada a prenderla Qui c'è una mitraglietta Qui ho una granata letale Attacco aereo sul mio bersaglio Loader 2 0 ricevuto Attacco a grappolo in corso Ma che cazzo Però C'è l'altro cazzo Unicottolo però No come moteri nella varia Perchè lo moteri nella varia Adesso no Non più Proverso Oddio Ho tirato uno Trattato uno Trattato uno Trattato uno Trattato uno Bellard Bellard Trattato uno Trattato uno Trattato uno Bellard Di scuola Conl'area operativa Ma deve rimanere uno in pista per caso? boh, non ho fatto sali sul camera no, la zona non lo so uuuuh, ma che cazzo ma dove ho mappato fauna? non ho mappato fauna, non ho mappato fauna da superstore ma la cia, ma la cia ma la cia, ma la cia, la cia ma la cia, ma la cia io boh senza farola ah, cia tutti i zombie ma la cia 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 si ma la cia da sti cazzi ce la fa merda Alla prossima! Sì, vabbè, dai, non sarà neanche strada, ma... Sì, vabbè, dai, vabbè... 140... Io ho uno! Io ho tre... Ma come fai? Ma quanti consigli deve dare? Oh, è stato dappone in arrivo! Attenzione! Scordatevi l'estrazione! Oh, 3, 2, 1... No, non voglio inguindere! Comandante, purtroppo devo informarla che Verdansk è caduta! È in atto il protocollo di contenimento! 3, 2, 1... Qua ci sarà una bella storia! Però potevano fare una mappa sulle maciere di Verdansk! E quindi... Io ho un po' di... Io ho un po' di... Io ho un po' di... questa è la tua verità di scuola di compensa sarà un altro almeno palla per te 1 provare a via